Ciao tifosi della Lazio, ho una notizia calda per voi oggi. La Lazio è sul mercato alla ricerca di un nuovo attaccante per rafforzare il nostro attacco insieme a Noslin e Castellanos. E il nome del momento è Anthony Marshall, sì, proprio lui. Secondo il TuttoSport, il nostro club sta puntando su questo agente libero che potrebbe portare ancora più qualità alla nostra squadra. Ma c'è un dettaglio importante, dobbiamo correre contro il tempo. La concorrenza sta osservando e, se non agiamo in fretta, Marshall potrebbe finire in un altro club. Quindi, la dirigenza deve darsi da fare per assicurarsi questo acquisto e rendere la nostra squadra ancora più forte. Immaginate solo, avere Noslin, Castellanos e Marshall che giocano insieme? Sarebbe un attacco di tutto rispetto. Eh, allora, tifiamo affinché questa trattativa vada a buon fine e possiamo festeggiare quest'altro successo. E ora, voglio sapere da voi, cosa ne pensate del possibile arrivo di Anthony Marshall. Lasciate qui nei commenti la vostra opinione e discutiamo di questo acquisto. Non dimenticate di mettere mi piace al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessuna novità sulla nostra Lazio. Alla prossima, ragazzi, forza Lazio!